Nuovo nome, nuovo logo, Assocom, e mi viene in mente un'abbreviazione, già questo sembra più snello, più moderno, ma cosa rappresenta? Tra l'altro ecco, il contenuto primo che hai voluto esprimere è un po' quello che l'advertising non è più driver, c'è molto altro e molto di più. Non è riduttivo l'advertising, trovo che l'advertising va a smettere di essere considerato una casta, la comunicazione è l'associazione, la comunicazione è il business che ci interessa, l'advertising classico si deve aggiornare velocemente in quel senso, ma sicuramente non credo che abbiano una nobiltà superiore in quanto non più unici facitori di idee. Oggi il digitale è facitore di idee, ma anche la digital PR, ma anche il media, ma anche le ricerche sempre di più, aspetta e guarda. Quindi devo dire che parliamo di associazione di comunicazione delle aziende che operano la comunicazione, soprattutto queste aziende. Tra l'altro dal road show è emerso che per gli associati diventa sempre fondamentale, tanto tu resti presidente proprio anche perché hai visto che il tuo programma è percorribile, la formazione, l'informazione e la cultura della comunicazione, perché sul resto è libera iniziativa di ogni impresa, azienda anzi come dobbiamo chiamarla da oggi, per cui nulla potete fare. Ma sai, io trovo che noi abbiamo, parlavo con altri amici, io ho un'esperienza internazionale abbastanza di lunga data e trovo che il livello professionale nostro non sia adeguato a quello che vogliamo fare. Se vogliamo essere credibili per le istituzioni, per i nostri clienti, per poter parlare meglio di remunerazione, essere meno remunerati, avere voce e capitolo, e fare anche dell'attività di lobbying occorre essere il point of reference di qualità, ecco perché la formazione è essenziale. Noi continuiamo a assumere un sacco di donne e di giovani, come dicevamo all'Ambrosetti recentemente, questo è un dato di fatto, ecco, oltre ad assumerli, cresciamogli anche bene, altrimenti non basta. E poi c'è l'informazione, in un business che ancora di più sarà profilato, dove lo shopper marketing, più oltre le ricerche, la faranno sempre più da padrone, e dove il contatto con il consumatore sarà sempre più a tetta a tetta, guardandosi negli occhi, quindi molto più paritetico, molto meno t-shirt pupil, come negli anni della televisione, ecco è fondamentale sapere leggere questi nuovi strumenti e usarli, ecco, formazione, informazione, e purtroppo anche una conoscenza per le aziende, un supporto legale che gli aiuti a capire come deve cambiare, con quale metamorfosi, il modello di business che abbiamo avuto fino ad oggi, per affrontare i challenge, la recessione e le nuove leggi che ne derivano comporta. Però il tuo gruppo, adesso ti faccio mettere il cappello WPP, sembra averlo capito, perché al contrario del mercato, la sua comunicazione lo vede a un meno 12 a fine anno, voi crescete di altrettanto, forse di un 10 o di un 12? Noi chiuderemo tra il 10 e il 12% come gruppo, proprio perché abbiamo dato degli spazi, degli investimenti in quei tipi di business che reputavamo potessero crescere, il digitale innanzitutto, sicuramente le ricerche che sono importantissime, sicuramente il retail, quindi sicuramente il media ancora una volta, sicuramente i servizi di marketing, l'advertising sicuramente ancora importante, ma non può più produrre gli stessi dinari di una volta. Purtroppo il mercato invece viaggia su livelli del 94, perché il meno 9 l'anno scorso, il meno 12 quest'anno, insomma, sono tanti soldi e tanti posti in lavoro in meno soprattutto. Ma c'è il pericolo tra l'altro, non è solo quello dei clienti che riducono il budget, ma è anche la rigidità, insomma, la nuova anche legge Fornero che impone le assunzioni, sembra mettere un'altra spada di Damocle, no? Su questa industria, perché soprattutto per voi multinazionali che vi impongono poi di adeguarvi perfettamente alle leggi del paese, insomma, i bilanci poi piangono. Ma anche per quelli piccoli che per di più non hanno dei numeri abbastanza grossi potessi difendere, prendi la legge nuova sugli appalti, ad esempio, noi ci troviamo a essere di fatto responsabili di investimenti fatti da qualcun altro, giuridicamente, noi non siamo pronti, dobbiamo crescere in questo senso. La grande differenza oggi è che le multinazionali che una volta usavano dei freelance devono assumerli e quindi abbattono i loro profitti. Le aziende piccole che lavoravano con i freelance, che li devono assumere, chiudono perché non hanno la possibilità di sostenere dei costi così alti, per entrambi è un disastro. Ma la sua comunicazione farà qualcosa? Torniamo sempre al discorso vecchio iniziale della lobby? Per essere capaci di fare qualcosa, di essere credibili, seri, importanti, in termini di numeri e anche di rappresentatività. Purtroppo noi come associazione non lo siamo, non lo siamo da probabilmente 15-20 anni a questa parte.